Solo una femmina come te poteva arrivare dove sei arrivata tu, eh? No! Non ti potevi smentire, eh? 25 anni non ti potevano cambiare! Quello che ho fatto riguarda me e la mia coscienza! Ora sono tua moglie e da qui non mi muovono nemmeno i carabinieri! Tu te ne vai! E se non te ne vai con i piedi tua da qua esci morta! Non esiste legge, non c'è Padre Eterno che può piegare Domenico Soriano! E già che dove non ci sono infermi non ci possono essere infermi e le schifezze, le porcherie davanti a una moribonda Ma perché tu lo sapevi che io stavo morendo e vai a fare a casa di tua sorella? Ma quali i denari Domenico? Conservatili con buona valuta i denari! Perché un'altra è la cosa che io voglio da te e me la dà! Tengo tre figli Domenico! Dici che doveva consegnare tre lettere urgenti di donna e donna e donna! Tre lettere di donna e donna? Eh, tre lettere! Uno, due e tre! Ma lo sai che mi hai proprio seccato? Vuoi vedere che ti prendo schiavo? E fammi vedere, va! Ma che fai? Abrazza di me! E fermati tu! Si devono chiamare come mi chiamo io! Come ti chiami tu che? Siamo sposati! Sorriano! E siccome non siete state in punto di morte, il matrimonio si annulla. Non vale! Voi, mi siete figli? Hai voluto guastare la pace di quei tre poveri giovani! Ma io dico, ma chi te lo ha fatto fare? Ma perché glielo hai detto? Perché uno di quei tre è figlio tuo! I figli sono figli!